Cosa porterà? Azione e in Consiglio regionale cosa porterà Pavone? Azione e Pavone porteranno soprattutto l'esperienza acquisita in tanti anni di amministrazione pubblica. Sono stato sindaco della città di Roseto, degli Abruzzi, rivesto adesso il ruolo anche di consigliere e delegato della provincia di Teramo e sono più di 30 anni che mi occupo di amministrazione pubblica. Quello che il nostro credo politico credo sia chiaro, quindi noi saremo in Consiglio provinciale e regionale a valutare quelle che sono le proposte che arriveranno. A le proposte positive daremo voto positivo, alle proposte che consideriamo non positive daremo voto negativo. Abbiamo parlato molto di sanità, per esempio in questa campagna elettorale, di trasporto pubblico urbano. Questi sono dei temi sul turismo, sono tanti temi ovviamente che interessano la collettività regionale. Certo quello della sanità è uno dei temi principali da affrontare perché è uno di quelli più vicini ai cittadini. Quindi come fare per cercare di ridurre le famose liste di attesa, la mobilità passiva. Su questi temi se ci saranno delle proposte da parte della maggioranza che vanno su questa linea, noi sicuramente li sosterremo. Ci si interroga già se Azione rimarrà effettivamente all'opposizione o meno, lei cosa ne pensa, cosa dice? Allora Azione oggi abbiamo detto già, questa era una coalizione di centro-sinistra più Azione. Questa è l'indicazione data dal partito a livello nazionale, oggi siamo all'opposizione con Luciano D'Amico, all'opposizione del governo Marsilio. Questo è quello che è uscito dal risultato elettorale, al momento questa è la posizione di Azione. In Consiglio provinciale prenderà il suo posto libera da meglio? In Consiglio provinciale Azione ha, come ho detto, ha un ruolo decisivo per la maggioranza che è oggi politica, almeno quella politica, perché sappiamo che la provincia è un ente sostanzialmente commissariato, il potere del Presidente non è sfiduciabile e quindi rimarrà fino alla fine. Noi abbiamo sostenuto convintamente Camillo D'Angelo, ci auguriamo che Camillo D'Angelo tenga conto delle istanze che Azione e la Consigliera Libera da meglio, a cui a breve lascerò il posto del rappresentante di Azione in provincia, e ci sia il rispetto giusto verso una forza politica che è decisiva oggi nel panorama politico provinciale.